E' stato premiato quello che quasi l'unanimità dei consiglieri regionali attribuivano a me mentre esprimevano proprio i loro ideali e la loro volontà. E' questo che è importante, l'ho detto nei loro interventi, c'era la garanzia che anche dopo di me, anche se il dopo dovesse dire, la storia radicale di grande civiltà umana, non solo italiana, prosegua. Le hanno riconosciuto, applaudendo, cose che sentono loro, per loro, non cose che riconoscono eccetera. Hanno espresso il fatto che loro condividano questo modo di essere oggi impegnati per il paese che noi siamo.